Belen Rodriguez, dopo essersi regalata giornate di relax in occasione delle festività natalizie con la sua famiglia, è in procinto di partire per una vacanza all'estero. La 37enne passerà un po' di tempo lontana dai suoi figli, Santiago e lui, il grande assente di questo periodo festivo, Antonino Spinaldese, con il quale i rapporti sono sempre più tesi. Ecco dov'è diretta la Rodriguez, come ha deciso di inaugurare il nuovo anno e con chi sta a parte. Belen Rodriguez ha deciso di condividere con i suoi più di 10 milioni di followers di Instagram il modo con cui ha iniziato il 2022, tra relax e partenze. L'Argentina è reduce da giorni passati in montagna nella totale tranquillità. con i suoi cari, mamma Veronica, papà Gustavo, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Dopo aver trascorso il primo giorno dell'anno in sauna, Belen ha sfoggiato nelle stories di Instagram il suo nuovo. La scioghero, tornata a casa dalle vacanze, ha mostrato la frangetta nuova di Zecca. Per lei le vacanze non finiscono qui, anzi. Poco dopo, sempre nelle stories, ha mostrato due carti di imbarco, la sua e quella di una sua storica amica, Patrizia Griff. Quest'ultima, che ha partecipato al GF5, è una bionda hair stylist 55enne che è sempre stata al fianco dell'Argentina. Nei documenti è ban visibile la loro destinazione, prima Madrid poi Montevideo. La sciogherla ha portato i suoi followers con sé durante il volo, mostrando le pagine dei libri che ha letto in attesa di arrivare a destinazione. In una di queste si legge una frase che sembra l'ennesimo velato messaggio che conferma la presunta crisi che sta vivendo con Antonino Spinalbese. Stai sempre vicino a persone che stanno bene e lascia che chi si lamenta costantemente faccia la sua stagione. Scegli con cura gli amici e i compagni di viaggio, che a star vicini a gente felice, si vive comunque meglio. Si tratta di una frecciata. Grazie per la visione!